Oggi prepariamo insieme dei pop corn al microonde facili e veloci. Prendi un contenitore che si possa utilizzare per cuocere dei pop corn al microonde. Io ho utilizzato WowPop Cuoci Popcorn e berseci dentro i chicchi di mais per pop corn. Se vuoi aggiungi sale e olio. Metti il coperchio e cuoci il microonde a 1000 watt per 3 minuti circa in base alla quantità di chicchi che hai inserito. Una volta pronti mantieni il coperchio in posizione aperta e scuoti per eliminare i chicchi non scoppiati. Prima di continuare iscriviti al canale, per te è gratis e non ti costa niente e per me è molto importante. Pochi minuti e i tuoi pop corn saranno subito pronti. Se il video ti è piaciuto lascia un like e scrivilo nei commenti.